Terme di Santa Lucia è scelto da sempre più utenti per i tanti servizi che eroga sia dal punto di vista termale ma anche medico e anche del benessere e del beauty, sempre di più anche gli investimenti che la SSM sta facendo su questo particolare tipo di servizio. Possiamo dire che il percorso vascolare che era molto frequentato che aveva delle problematiche strutturali abbiamo fatto un progetto, una progettualità per cui avremo un nuovo percorso vascolare con delle vasche di riabilitazione veramente eccezionali. Questo Open Day darà la possibilità anche ai cittadini che non conoscono questa struttura di approfondire le tematiche che riguardano le varie terapie che vengono offerte? Sì, l'Open Day serve proprio per far conoscere quali sono le nostre potenzialità e i nostri servizi che offriamo. Noi speriamo che molta gente venga, anche perché è gratuito, salvo una piccola telefonata per prenotare quello che loro vorrebbero fare e poi possono venire su addirittura, metteremo a disposizione delle servizi navetta per poter venire dalle 10 alle ore 19 su alle Termi e fare quello che vuol fare. Come nella migliore tradizione, un programma particolarmente ricco, la presentazione anche di diverse novità, insomma gli utenti avranno modo ancora una volta di apprezzare le Terme di Santa Lucia? Senza dubbio, avremo all'inizio della giornata questa apertura alle ore 10, poi ci sarà una conferenza tenuta dal professor Gabrielli, pediatra della clinica delle Politecniche dell'Università delle Marche, sui bambini, perché i bambini sono il nostro punto di riferimento. L'importanza della prevenzione in età pediatrica è fondamentale, le cure termali si inseriscono in questo filone. Avremo quindi un'animazione anche per i bambini, quindi non solo la possibilità di usufruire tutte le varie cure inalatorie, le cure svolte nel reparto di pediatria termale del nostro centro, ma anche un'animazione che va inserisci proprio per far sì che molti bambini possano venire a fare le cure a Tolentino. Poi la giornata proseguirà con la possibilità di effettuare l'elettrocardiogramma a riposo, quindi la parte cardiologica, la parte ottimolaringoiatrica, la parte spirometrica, premologica, che è un altro nostro cavallo di battaglia e nonché la riabilitazione. Noi abbiamo anche questa macchina unica in Italia per la cura del mal di schiena, il Medex, quindi inviteremo la gente a provare questa macchina per fargli capire l'importanza di poter seguire un ciclo di cure riabilitative con questa macchina. Nel pomeriggio andremo a potenziare l'offerta del nostro centro termale estetico in cui con massaggi, prove di tecar terapia per la cura cellulite, la consulenza dei chirurghi plastici, dei nutrizionisti di cui parlava il sindaco, quindi un'offerta completa e invitiamo la gente a prenotarsi perché queste cure vanno prenotate per poter far sì che tutti possano fare quello che desiderano fare alle termine di Santa Lucia.